Storia del primo landing del 90% dei player che hanno scaricato l'aggiornamento della stagione 2 capitolo 4 di Fortnite Mega City, nuovissimo POI, una città immensa, tutta da scoprire La prima cosa che faccio mi dirigo subito in questo nuovo luogo Vedo il Mega Dragone, ragazzi miei, credo che sia stata la primissima cosa che abbiamo fatto tutti quella mattina Mi reco proprio qui, vedo che non ci posso lendare su, ok 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 Nulla, non mi ci fa atterrare, basta, via, non mi è piaciuto Al che babbo quale sono, mi son perso uno di questi mini live event Ma è meraviglioso Ragazzi, ma è bellissimo, ma è possibile che nessuno tra i commenti in questi due giorni di season Tre contando oggi, non mi abbia scritto che si verificasse un qualcosa del genere Nel momento in cui la season, vabbè la season, la tempesta parte E adesso voglio raggiungerlo e rivederlo perché è meraviglioso, raga Ma io mi innamoro di queste cose Vediamo se riesco ad atterrare proprio sotto le sue fauci Mi ricorda tantissimo Giorgetto il saldatore, tutto ciò Guardate i secondi sopra la mia cam, ok? 5, 4, 3, 2, 1 Dovrebbe scattare No, 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 no Ne sono innamorato Quanto ci scommettete che il bestione lassù In un prossimo evento finale Avrà un ruolo tutto suo Già lo immagino tutto arrabbiato Su quel grattacielo Sputar fuoco e distruggere ogni singola cosa Vediamo se riparte Tra l'altro Vorrei vederlo anche dal replay Ma questo effetto virus Tutto corrotto Mi ricorda tantissimo I visitatori Sapete qual è il problema principale per me Di tutte queste cose che si verificano in game? È che giocando con le prestazioni beta Mi perdo tutti questi effetti Esatto ragazzi Non volendo Neppure riesco a vederle E percepirle in gioco Perché ragazzi Ho tutti gli effetti super low E non si vede nulla Comunque dal replay Risulta parecchio buggato Infatti non sputa nulla Però avrei voluto vederlo da qui raga È bellissimo Ma passiamo ad altro Credo proprio di non aver mai startato Una rissa squadre da solo E quindi tramite un server privato Per cercare un item in particolare Di che cosa stiamo parlando Ma soprattutto Dal fine stagione scorso In quanti mi hanno posto La stessa identica domanda Ovvero Martex Ma tornerà mai Lo spas? Beh a quanto pare In questa stagione È già disponibile Ragazzi miei È già in game Ma non nelle zero build Non sul battle royale Normali Bensì sul rissa squadre Però ragazzi miei Un punto a favore C'è Perché potrebbe Accadere la stessa Identica cosa Che abbiamo visto Con questo pump Qui che sto portando Perché All'inizio Della scorsa season Lo potevamo trovare Solamente sul rissa squadre Esatto ragazzi Era uno di quegli item Presenti Come lo doubt Nel momento in cui Si spawnava Però chissà Avendo questo Nuovo shotgun Si lo spasso Un nuovo shotgun Sul rissa squadre Ragazzi miei Io sinceramente Me lo aspetterei Anche nelle altre Modalità Molto presto Vediamo se riusciamo A beccarlo Perché lo si può trovare Solamente dall'apertura Degli airdrop Quindi da queste chest Che cadono dal cielo Non voglio assolutamente Fermarmi Almeno fino a quando Non ne troverò uno Quindi partiamo Già da ora Con un bel pollicione All'insù ragazzi miei Codigo Martex E la tienda di Fortnite Per sostenere Tutti questi video Mattutini Un grazie infinito A voi che avete Shoppato il pass battaglia Con questo code Importante Riaggiornatelo Ogni 14 giorni Ragazzi miei Serve a sostenere Il canale Con tutti questi video Con tutti gli shorts Con tutte le live Ogni singola cosa Che vedete qui Ragazzi miei Apriamo la terza chest Madò Sembrava lui Sembrava lui Mannaggia la balestra Lo troverò là dentro Lo troverò là dentro Ne son sicuro Rompiamo sta al velozzo Vai Ok Cadi qua Dai Oh comunque raga Quante armi Ha riportato Ovviamente Solo tramite Questi airdrop Mannaggia loro Ragazzi guardate Dove è caduto Questo airdrop Speriamo che Riusciremo ad aprirlo Madò Aspetta 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 No Non riesco Niente Deve aprirlo così Ragazzi Match Ho provato Ok Andiamo Oddio No Non voglio grindare Voglio aprire L'airdrop E nulla Non è caduto niente Forse È la volta Buona Guardate 3 6 7 8 Airdrop Da aprire Speriamo che Il tutto Vada a buon fine Primo airdrop Uh La revolver Con mirino Madò da quanto Non la vedevo Sinceramente A dirla tutta Non so Quanti vecchi item Lì ne sta accadendo uno Abbiano inserito Oh caspiterina Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta Lo spasso ragazzi Eccolo qui Vabbelo provare Che sound Non vorrei dire cose brutte Però Sì Ripeto Per il momento Si può trovare Esclusivamente Sul risa squadra Perché abbiamo questa sorta di Fuori dal magazzino 2.0 Solo con gli airdrop Quindi dall'apertura Di queste Ceste Però ciò non toglie Che potrebbe Arrivare Sul BR Anche su 0 costruzioni Molto presto Ce l'abbiamo fatta Ragazzi miei Non erano Bagianate Ve lo droppo Un attimino Qui giusto Per farvelo vedere Mamma mia Dovete droppare Un bel pollicione Adesso Qua sotto A questo video Se rivolete Lo spasso In gioco In quanti Lo stanno Attendendo Fatevi sentire Anche qua sotto Tramite i commenti Belli miei Io spero vivamente Che finora Il video sia stato Di vostro gradimento Se così fosse Ragazzi miei Codigo Vartex E la tienda The Fortnite Per tutti coloro Che volessero Sostenere Il canale Andiamo a riflessare Il negozio oggetti Vediamo che cosa Propone Oh si Il mio medikit Medikit ragazzi miei Lo hanno droppato Il nuovo pacchetto Di salve il mondo Da quanto Aspettavo Questo pacchetto Da quanto Da quanto Tre giorni Sì Esamino oggetti Vediamolo O comunque raga Si nota Quando sono skin Di salve il mondo Riutilizzate Sì Ma Le apprezzo Tantissimo E soprattutto Guardate che bel Backpack Oddio Lo immaginavo Un po' più grande Il medikit Vediamo Sto piccone Questo è un bandolo Che mi porterò Subito a casa In questi giorni Lo andremo A testare Mamma mia Che bello Che è raga Troppo 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 Bello Ned Ovviamente Ci saranno 1500 V-Bucks Da riscattare Tramite il completamento Degli incarichi Giornalieri Su salve il mondo Quassù Che cosa abbiamo Loro sono scese Tantissimo Raga Creed Giornaliere Avanguardia oscura Mamma mia Che feels Mi sento Elegante Ok Bagnetto Va benissimo Pesce secco E ancora qui con noi Tuzzi Eh vabbè Audio coperettato Raga Mi sa che questa L'aspettava qualcuno E poi Concludiamo così Cioè questo Questo è lo shop Così Vabbè Fatemi sapere ragazzi I miei Se riuscite a trovare Anche voi Lo spas Sulla modalità Rissa a squadra E soprattutto Se riuscirete ad avere Quei feels Super nostalgici Delle vecchie Season Noi ci vecchiamo In un prossimo Video mattutino Ogni giorno Qua sul canale Un salutone da Martex Eccomi un saluto Un bel Slabbrothers Un salutone da Martex 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 Un salutone da Martex